Salve ragazzi cari amici del web, sono Andrea Bruno, eccomi qua a Pontianak nel Borneo in Indonesia e in questo momento sono in procinto di attraversare la strada, devo andare dall'altra parte e qui veramente, dato che le strade non considerano affatto i pedoni, non ci sono né strisce né semafori a Pontianak per i pedoni devo raggiungere questo posto bellissimo e sono immerso in una specie di Froggy, il famosissimo videogames degli anni 80 la rana che doveva riuscire ad attraversare la strada senza finire sotto le ruote della macchina ecco questo è il Froggy in versione Real TV vediamo se ce la farò a passare questa volta qui è veramente un'impresa, non si fermano dall'altra parte c'è un museo, un posto bellissimo ecco sembra che adesso il traffico stia diminuendo, non mi hanno tirato sotto ecco vado ancora avanti, ce l'ho fatta, sono dall'altra parte, ce l'ho fatta ho raggiunto il posto bellissimo che ve lo mostro con una inquadratura ecco sono arrivato fino qua seguendo le indicazioni sul GPS di un museo veramente difficilissimo raggiungere il posto questo videogames della realtà potenziata è stato molto difficile ho passato tutti i livelli e sono giunto fino qua ok ragazzi continuate a seguire i miei videoclip e ve la do io all'Indonesia vi mostrerò dei luoghi fantastici trasmetterò anche a voi le mie emozioni e ci sentiamo alla prossima